Salve Daniela. Salve signor Tolli. Bene, oggi vi presento Daniela Cerroni. Eh Daniela Cerroni è risultata alla serata Golden Domus del duemilaventi del gruppo toscano la miglior assistant della rete affiliata italiana. Eh lei lavora presso il punto affiliato di Garbatella ufficio che ottiene sempre risultati straordinari e devo dire che è il terzo anno consecutivo che raggiunge questo obiettivo insomma questo premio molto molto ambito e eh ha ci ha detto che hai già ipotecato il duemilaventuno vedremo insomma quest'anno come come andrà. Bene Daniela io le vorrei fare questa domanda ci dica lei cosa bisogna fare per eh essere i migliori. Eh allora hm sicuramente ci vuole tanto impegno tanta dedizione tanta costanza perché è un lavoro eh quello dell'assistant che è impegnativo eh ci vuole veramente tanto eh del proprio. Mi diverto tantissimo a fare questo lavoro eh mi piace passare il fare delle telefonate, contattare i clienti, capire le loro esigenze eh anche eh chiedere insomma di informazioni su la possibilità che vendano appartamenti quindi insomma riesco anche con un discreto successo a fissare acquisizioni di vendita durante le telefonate di richiesta clienti e mh devo dire che è un lavoro che va fatto costantemente tutti i giorni. Non bisogna mai mai tralasciare clienti nuovi, clienti vecchi, clienti che non si sentono da un po' di tempo. Io periodicamente richiamo sempre sempre tutte le persone che so che cercano un certo appartamento, telefonate mirate eh e quindi riesco ad ottenere ottimi risultati eh con sia gli appuntamenti di vendita che gli appuntamenti di acquisizione. Bene Daniela, passiamo adesso ad un'altra domanda. Le voglio chiedere quali sono gli strumenti che ci sono sulla nostra piattaforma che lei utilizza di più e che ritiene più interessanti? Allora ehm sicuramente la richiesta clienti che è sempre molto aggiornata e quindi ci permette di avere un numero di clienti assolutamente congruo per la gestione eh vivace dei nostri incarichi. Eh poi anche tutto quello che è l'aspetto pubblicitario eh la possibilità di inserire virtual tour foto e video sul sito web sicuramente ci agevolano moltissimo nel lavoro e anche il Toscano case eh che abbiamo un software molto semplice per cui eh l'impaginazione di questo Toscano case è veloce e anche molto divertente da poter eh gestire nel giro di settantadue ore abbiamo immediatamente il cartaceo del giornalino che distribuiamo e quindi devo dire che nel quartiere abbiamo e nella nostra zona molto molto riscontro anche grazie al al Toscano case che è uno strumento sicuramente molto molto utile e immediato. Bene Daniela allora io le auguro eh buon lavoro buona competizione per il 2021 e che Vica è il migliore. Sì assolutamente sì. Saluti. Arrivederla grazie.